Nike Rivelli si è recentemente mostrata sui social in una versione inedita, il tuples da contadina della showgirl figlia d'arte, Nike Rivelli, bellissima primogenita della spettacolare, ha deciso di passare la quarantena nella sua casa di campagna in Piemonte, in questi ultimi mesi, i follower della showgirl hanno avuto modo di vedere tale abitazione per merito delle molte foto da lei postate sui, social, tuttavia, nelle ultime ore, la notta figlia d'arte è tornata a far parlare di sé perché su Instagram si è mostrata in una versione giardiniera super sexy, intenta a zappare il suo personale orto chiaramente non sono mancate le reazioni dei suoi circa 260.000 follower, in molti hanno infatti apprezzato i nuovi contenuti, ma altri hanno fortemente criticano le iniziative della modella, la bella ha di fatti arricchito il suo profilo social con un nuovo filmato e nuove foto dove appare senza reggiseno, con solamente dei leggings indosso, si è fatta immortalare di spalle con la vanga in mano, mentre si è dedicata alla preparazione della terra, ovviamente non è stata questa la prima volta, che abbiamo visto Nike mettere in mostra le sue grazie, in questa occasione è però in giardino, fuori casa, completamente in tuplesma con le ciabatte bianche e col pelo, la figlia di Ornella Mutti, alle prese con l'orticoltura, ha dunque scatenato di nuovo il web per questi suoi nuovi contenuti artistici.